Abbiamo ripreso la terza parte dell'undicesima stagione croce artistica con un trio, due vifrauti e un pianoforte, una famosissima flautista americana, poi abbiamo a novembre un duo che viene dalla Romania, poi a seguire un giovane violinista siciliano e poi chiudiamo con il 17 dicembre con un concerto dedicato ai musicisti di Acqua Viva delle Fonti, quindi ancora una volta l'associazione con la femmina porta avanti un discorso di qualità, di artisti internazionali e anche uno sguardo alla realtà musicale di Acqua Viva. Grazie a tutti.